Grazie. La parola all'Onorevole Gualtieri per due minuti. Grazie Presidente. Mi unisco ai ringraziamenti alla Commissione, alla Presidenza del Consiglio, ma questo dibattito è opportuno e importante soprattutto perché siamo di fronte a due inaccettabili violazioni della lettera e dello spirito del Trattaro di Lisbona. La violazione della lettera, come è stato già ricordato da molti oratori, riguarda il boicottaggio dell'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che è chiaramente stabilita dal Trattato di Lisbona e che costituisce un complemento essenziale all'adozione della Carta fondamentale dei diritti. La violazione dello spirito del Trattato riguarda invece il progetto, attualmente in discussione a Brighton, di emendare la Convenzione, riducendo in misura inaccettabile le possibilità di appello dei cittadini. Si tratta di proposte davvero paradossali, non solo perché il protocollo 14 ha già riformato significativamente le procedure della Corte, ma anche perché più in generale risolvere il problema dei troppi casi pendenti riducendo le possibilità di ricorso è come combattere un'epidemia chiudendo le porte degli ospedali. Il problema non sono i troppi ricorsi, il problema sono le troppe violazioni dei diritti in Europa ed è di questo che dovrebbero occuparsi i governi. Il Parlamento europeo quindi è molto preoccupato, è molto vigile e ritiene assolutamente importante una reazione che impedisca questo tipo di riforme che sono in discussione a Brighton. Grazie Presidente, io ho già confermato il pieno impegno del Governo di coalizione conservatore liberale democratico alla Convenzione. Io parlo sicuramente per tutti i democratici ministri.